Governance e Smart Specialization sono le parole chiave che caratterizzano il progetto pilota oggetto del protocollo d'intesa per il rilancio della zona industriale di Valdò che è stato firmato dal comune di Moncalieri, dalla città metropolitana di Torino, dal Politecnico, dal Consorzio Valdò, dai sindicati CGL Cislewil, dalla Camera di Commercio e dalla Confindustria Piemonte. Il comune di Moncalieri intende favorire l'insediamento e la crescita di attività economiche nell'area Valdò con l'obiettivo di promuovere il patrimonio di risorse materiali e immateriali del territorio. Molto importante in tal senso sarà il contributo scientifico che il Politecnico metterà a disposizione sul tema della pianificazione del territorio per stimolare e proporre nuovi modelli di sviluppo e soluzioni tecnologiche innovative. Alle imprese sarà offerto un supporto scientifico e tecnologico attraverso il laboratorio interdipartimentale per il trasferimento tecnologico del Politecnico. Le aspettative sono quelle di provare a impegnarsi, ad occuparsi di chi fa fatica, della reindustrializzazione dei caipannoni, della crisi occupazionale e produttiva, cercando però di guardare un pochino altro e un pochino oltre, costituendo cioè attraverso anche questo tavolo soluzioni che possano reggere nel tempo e costituire davvero una nuova opportunità, non solo per la città di Moncaglieri, lo dimostrano gli amici, i promotori e sottoscrittori del protocollo d'intesa, ma più in generale con l'ambizione di guardare al territorio all'aramogenea Torino-Sud. La partecipazione a questo accordo è significativa proprio perché va nel solco di quello che è il ruolo che la città metropolitana sta disegnando, cioè quello di un soggetto di sostegno e lo sviluppo economico del territorio metropolitano nel suo complesso. E quindi il fatto che qui vi sia oggi un'iniziativa che raccoglie un'area importante, sud di Torino, proprio con lo spirito di lavorare, disegnare le prospettive di sviluppo di questo territorio, non può che vedere protagonista anche la città metropolitana nel suo ruolo e nel suo compito. Grazie.